Pacioccare con FFmpeg. Che cos'è FFmpeg, cari amici e amiche? È il coltellino svizzero che ogni podcaster, ogni videomaker, ogni youtuber dovrebbe avere nella sua faretra. È una freccia che bisogna giocarsi. In alcune circostanze ben precise richiede un minimo di nerditudine perché è un tool e uno strumento a riga di comando. Non so se vi ricordate il vecchio MS-DOS, quando bisognava scrivere invece che usare il mouse per fare andare i programmi, beh, è una roba di quel tipo, ma è una roba che ci permette con pochissimo testo, con pochissimi click, di fare delle robe grandiose, di risparmiare letteralmente un sacco di tempo. E allora andiamo a imparare oggi come si usa FFmpeg. Lo facciamo alla Ciraulo, ma lo facciamo anche alla Lonobile, perché siamo qua con Maurizio Lonobile. Ciao Maurizio! Ciao Andrea! Grandissimo, ben trovato e super grazie per essere qua con noi a spiegarci un pochino FFmpeg. Chi sei tu? Perché ci spieghi FFmpeg? Ti presento io che sono ormai un mago delle presentazioni. Allora tu sei podcaster, diciamolo prima di tutto, che è la cosa che io preferisco delle persone. Factotun Podcast, il tuo podcast, lo trovate su Anchor, come vedete adesso e comunque su tutte le piattaforme possibili e immaginabili, oppure lo trovate su mauriziolonobile.it. Maurizio è consulente informatico, un appassionato di divulgazione e uno un po' tipo me, siamo anche un po' sombilianti a livello di look, come potete vedere, e uno che quando si possono insegnare cose lo fa con grande piacere. E allora andiamo subito a vedere che cosa succederà durante questo tutorialone guida completa alla Ciraolo Lonobile. Che cosa imparerete? Imparerete a usare FFmpeg per elaborare i vostri video e audio. Vi ho portato qui qualche esempio di cose che impareremo durante questa oretta che passeremo insieme. Impareremo a convertire i formati da uno all'altro, da video ad audio, da audio a video, da un tipo di video, un tipo di video, da un tipo di audio, un tipo di audio. impareremo a estrarre l'audio dal video, il video dal video, il video dall'audio, a tagliare, a sostituire, a regolare, insomma a fare tutta una serie di cose che sono solo una minima parte di quelle che FFmpeg ci permette. Impareremo soprattutto a capire qual è il concetto di FFmpeg in modo che poi ognuno di noi possa essere autonomo e usarlo bene per conto suo. Che cosa dovete conoscere per poter seguire questo tutorial? Beh, non dovete conoscere niente, però vi dico la verità, sarò sincero con voi, un po' di nerditudine aiuterà, nel senso che comunque vedremo delle cose che magari per voi saranno nuove, perlomeno un po' di curiosità. Non vi preoccupate che vi accompagniamo passo dopo passo. Vedrete che Maurizio è uno tipo me, per cui gli piace spiegare le cose base per tutti, in modo che tutti possano gradirne e fruirne. Per quanto riguarda me, vi ricordo di venirmi a cercare su Chiocciolina Ciraulo, su Telegram, per gli extra, i contenuti, le risorse, tutte le cose che non ho, lo spazio per mettere su YouTube o sui podcast e su officine.me slash upgrade per diventare membri della community e beccarvi gruppo riservato, citazione sul sito, backstage, materiale, tutorial, tutte cose extra riservate soltanto a voi. Carissimo Maurizio, ho dimenticato qualcosa o possiamo cominciare? Assolutamente non hai dimenticato nulla, sei ormai un Anchorman provetto, direi di iniziare a razzo. Che dici? Grandissimo. E allora vai, io inquadro il tuo schermo e dici tu che cosa succederà fra poco. Oh perfetto, allora iniziamo magari con due slide velocissime per inquadrare lo strumento FFmpeg e capire di che cosa stiamo per andare a parlare. Che cos'è FFmpeg? FFmpeg è in realtà l'acronimo di Fast Forward MPEG ed è un coltellino svizzero che ci permette di modificare, convertire, tagliare, sincronizzare, strarre audio, video, immagini, insomma fare tutta una serie di cose e ci fa anche creare degli spettrogrammi alla velocità della luce. Che cosa sono gli spettrogrammi? Lo vedremo durante questo tutorial. Ma come installeremo FFmpeg? Beh è facilissimo, basta andare sul sito ffmpeg.org e scaricheremo il pacchetto per il sistema operativo. Noi questa sera ci focalizzeremo di più per quanto riguarda Windows, però è disponibile anche su piattaforme Linux e macOS. Come usare FFmpeg? Beh FFmpeg sono disponibili delle front-end, delle GUI, cioè delle interfacce grafiche per facilitare il lavoro, però hanno un problema di fondo, sostanzialmente facilitano ma limitano le potenzialità del prodotto. Invece quella che ci dà la massima potenzialità e quindi la massima duttibilità, si può dire duttibilità? Non lo so. Credo duttilità. Duttilità, bravissimo. E la command line, cioè la riga di comando, quella famosa riga di comando DOS che tu citavi prima. Quindi diciamo una cosa, FFmpeg si può usare con dei programmini che sono quelli classici, le finestre che noi clicchiamo col mouse, ci sono i bottoni e tutto quanto, ma in realtà quelli sono diciamo una specie di programma aggiuntivo che si installa diciamo sopra FFmpeg e che ci permette semplicemente di comandarlo in una maniera più semplice. Allo stesso tempo quella roba lì ci limita perché possiamo fare solo le cose previste da quel programma, mentre FFmpeg è una roba gigantesca, immensa e infinita e allora noi vi vogliamo insegnare il metodo PRO che non è così tanto complicato una volta che entrate nell'ottica. Esatto, qua subito vi faccio vedere una command line aperta dove vediamo subito un output, però non vi preoccupate perché tutti i comandi che questa sera utilizzeremo, pacioccheremo, ve li renderemo disponibili e quindi potrete fare il copy e incolla come faremo noi in questo video tutorial. Quindi io passerei a questo punto al download di FFmpeg per scaricare FFmpeg come vi dicevo prima basta andare sul sito FFmpeg.org, cliccare sul tasto download subito in home page e qua sotto è possibile scaricare i tre pacchetti per sistemi Linux, per Windows e per macOS. Per quanto riguarda invece quello che faremo noi questa sera è l'utilizzo su Windows, quindi clicchiamo su Windows Builds e finiamo su un sito che non è quello ufficiale di FFmpeg.org ma di qualcuno che si preoccupa di costruire, cioè di buildare e compilare i sorgenti che ogni notte vengono modificati dagli sviluppatori di FFmpeg. Questa è la magia dell'open source. Esattamente. In automatico vengono subito selezionate l'ultima versione che è la build di oggi, questa sera, questa notte. L'architettura, quindi se ne abbiamo un Windows a 64 bit è già preselezionato, possiamo selezionare anche la versione a 32 bit qualora avessimo un Windows molto vecchio e soprattutto è subito selezionata la versione static, cioè quella sostanzialmente raccomandata di default da poter utilizzare così up and running. Diciamo che se non sapete cosa vuol dire quella roba che c'è scritta lì, quella giusta per voi è static. Esattamente. Diciamo che il default è quello che è già preselezionato, vedete che l'ombra è già sulle prime tre selezioni. Clicchiamo direttamente download build, non lo facciamo in diretta perché io l'ho già scaricato e l'ho fatto finire nella mia cartellina download. Eccolo qua. Questo è lo zip di circa 70 mega che vi verrà scaricato sul vostro computer e noi non dovremmo fare altro che estrarre la cartella contenuta all'interno dell'archivio, eccolo qua, c'è questa cartella FFmpeg. Noi la trasciniamo fuori sul desktop. Viene estratto tutto il contenuto. Per facilità in questo tutorial lo rinomineremo questa cartella in FFmpeg, quindi FFmpeg. E all'interno di questa cartella troveremo tutta una serie di sottocartelle, ma quella che ci interessa di più è quella bin, dove all'interno troveremo gli eseguibili di FFmpeg, FFplay ed FFprobe. Quello che è lo strumento principe che noi utilizzeremo questa sera è FFmpeg, perché è lo strumento, è l'eseguibile che ci permette di fare tutte quelle operazioni del coltellino svizzero che vi abbiamo fatto vedere prima. FFplay, giusto per dare una copertura totale di che cosa sono tutti questi eseguibili, è un player, quindi basterebbe fare FFplay, è il nome di un file audio, video, quel che sia e viene subito renderizzato, quindi è semplicemente un player di audio, video o immagini, mentre FFprobe è una sonda che permette di analizzare sia file statici, quindi dei file che voi avete all'interno del vostro computer, o anche degli stream che sono catturabili da internet. Per poter accedere a questi eseguibili a questo punto noi dobbiamo aprire il fantomatico DOS. E Andrea? E vai, e vai, e qui iniziamo a divertirci quindi. Ok, come lo facciamo? Lo facciamo in modo semplicissimo. Diciamo subito una cosa, se avete un computer con Windows, così come con Mac o a maggior ragione Linux, avete già il famoso DOS, che in realtà non si chiama tecnicamente DOS, ma avete comunque quella roba, quindi questo che vi farà vedere Maurizio ce l'avete tutti, non dovete installare niente. Esatto, cliccando sul tasto start possiamo scrivere velocemente CMD e ci compare il prompt dei comandi, cliccando viene aperta la finestra, la shell, io la chiamo shell per deformazione professionale perché essendo un sistemista che lavora prettamente su sistemi Linux viene chiamata shell, però in ogni caso questo è il prompt dei comandi di Windows 10 che utilizzeremo questa sera. E se avete usato un computer negli anni 90 diciamo che magari vi farà venire un po' di nostalgia. Però è uno strumento veramente potentissimo se si impara ad utilizzarlo. Come possiamo vedere noi in questo momento siamo all'interno della mia cartella utente, cioè sotto C, users, l'utente è Mauri. Ma noi vogliamo entrare in questa cartella qua e allora cosa facciamo? Facciamo tasto destro, copia indirizzo come testo, andiamo a scrivere il comando change directory, cioè cd, tasto destro del mouse viene incollato il pad dove abbiamo scaricato il nostro ffmpeg, invio e siamo dentro la cartella di ffmpeg. Vi faccio soltanto notare che Maurizio per copiare l'indirizzo su cui vogliamo andare lo ha fatto lì in alto come se ci fosse la barra degli indirizzi di un browser, in realtà è la barra degli indirizzi di esplora risorse, quindi dei file dell'hard disk del nostro computer e lì ha avuto la possibilità di copiare l'indirizzo. Esattamente. Allora, una volta che siamo dentro la cartella BIN per verificare quali sono i file controllo Scusami, un'ultima cosa, abbia pazienza che io ho questa deformazione da Piero Angela pazzesca. No, ma devi, assolutamente. Per incollare, lo sottolineo perché tu l'hai detto ma io lo ripeto, per incollare nel prompt dei comandi non si fa CTRL V o tasto destro incolla ma si schiaccia solo il tasto destro del mouse e automaticamente troverete incollato quello che avete copiato. Esatto, qualora abbiate problemi col tasto destro si può fare anche con modifica incolla. Cliccando qua in alto sull'iconcina nera del prompt compare questo menu a tendina e si può fare l'incolla direttamente dentro la shell. Bene, a questo punto possiamo digitare il comando dir per vedere il contenuto dei file. Come potete vedere questi tre eseguibili sono i tre eseguibili che abbiamo dentro la cartella BIN. A questo punto Andrea io inizierei con i comandi che abbiamo selezionato per questo lungo tutorial. Tu cosa dici? Secondo me assolutamente sì, anche perché sono curiosissimo. Io so già le cose che dirai ma sono curiosissimo di sentirle. Va bene, allora la cosa principale di FFmpeg da dire è che FFmpeg effettivamente è un prodotto enorme, vastissimo, ha tantissime codec audio e video, cioè quelle componenti che ci permette di trasformare audio, video e immagini anche da un formato all'altro, però la cosa più interessante di FFmpeg è l'enorme e vastissima documentazione disponibile direttamente all'interno dell'eseguibile stesso. Come facciamo a richiamarlo? Allora scriviamo FFmpeg.exe. Allora io ho scritto FFmpeg ma se volete l'autocompilazione potete schiacciare il tasto tab, viene in automaticamente compilato completamente il nome del file eseguibile o di qualsiasi altro nome contenuto nella directory in cui siete. Digitiamo "-h full", poi a questo punto noi lo facciamo vedere una sbrodolata di documentazione che è veramente una cosa lunghissima e anche illegibile ed indecorosa. Allora che cosa facciamo? Con il tasto su del vostro tastierino andiamo a richiamare questo comando e possiamo anche utilizzare il pipe, il pipe è il tasto che sta sopra il tab che dovete richiamare ovviamente in combinazione col tasto shift e diamo poi una concatenazione di comandi, cioè sostanzialmente l'output di FFmpeg.exe "-h full", quindi fammi vedere tutta la tua documentazione appieno, però tutta quella output che tu hai prodotto me lo intubi all'interno di un altro comando che è un more. Il more ci permette di navigare sostanzialmente quello che è l'output di quella documentazione. Eccolo qua. Vedete che non sta più scrollando in modo illegibile ma possiamo col tasto invio ad esempio scendere e andare a vedere tutta la documentazione andare a leggerla in modo dettagliato. Ci sono tantissimi switch. Allora questi comandi dove c'è "-protocols", ad esempio qua "-filters", vengono chiamati in gergo tecnico anche switch. Quindi se mi sentirete dire switch parole un po' strane, tu Andrea sicuramente mi fermerai, mi dirai mi raccomando spiega che cosa stiamo facendo. Ok? Ci puoi scommettere. Dico due cose caro Maurizio, soltanto a completare quello che tu stai dicendo. Spero che non capiterà che a volte magari spoilererò delle cose che avresti detto dopo nel caso me lo dici. In ogni caso le due cose che vi voglio dire sono 1. Non fatevi spaventare da questa immensa mole di comandi perché a voi non serviranno tutti. Vi guideremo sulla base di quelli che vi servono e poi finito il tutorial comunque avete mamma Google per trovarvi tutti gli altri. Addirittura una cosa che io ho scoperto smanettando su FFmpeg, Maurizio, è che neanche i creatori di FFmpeg conoscono tutti i comandi di FFmpeg. È vero. Perché ovviamente non c'è una sola persona che realizza il software, sono tanti. E io guardavo nei forum e vedevo che a volte facevano le domande ai realizzatori di FFmpeg e loro rispondevano ah scusa non lo sapevo che ci fosse questo comando. E quindi è assolutamente normale che voi adesso diciate ma questa mole qua non serve, tranquilli. E l'altra cosa che vi voglio segnalare è che sul sito web di FFmpeg che è FFmpeg.org come vi ha detto Maurizio sulla sinistra c'è una sezione che è documentazione all'interno della quale trovate già un sacco di informazioni di comandi molto simili in gran parte sovrapposti a quelli che vi ha fatto vedere Maurizio magari per chi non è abituato alla linea di comando un pochino più leggibili diciamo è un classico sito internet. In particolare quella che vi voglio segnalare è la sezione filters che trovate in components and documentation giusto per darvi un'idea dove trovate tutte le centinaia e centinaia di filtri audio e video che potete in maniera automatica andare a inserire all'interno del vostro audio o video. Io adesso sto scrollando a caso e vedete quanti sono. Ecco qua che le abbiamo finite. Abbiamo finito l'indice. Per cui eventualmente approfondite anche in questa forma. Tutto tuo Maurizio. Eccoci. Allora dicevamo appunto che FFmpeg ha una documentazione molto ampia e come diceva Andrea effettivamente ci sono degli switch cioè tutti quei comandini che andremo a concatenare che possono essere anche scritti in molti modi differenti. Quindi all'inizio magari per fare un qualcosa useremo uno switch poi vi farò vedere che in realtà quello switch può essere scritto in un altro modo perché essendo un prodotto open magari un programmatore diceva quella cosa mi piaceva più scritta così con due caratteri anziché con cinque quindi ci saranno mille modi per poter scrivere alla fine la stessa cosa. Io andrei avanti e inizierei con la conversione di un file audio in un altro formato. E questo ci dà anche un'idea dei comandi base molto buono. Esatto, inizierei con quello. Io ho preparato sul desktop una cartella che si chiama Source e ho scaricato un audio, è una canzone Lost Sky di No Copyright Sound di YouTube. In realtà ho scaricato l'MKB. Io ho già estratto l'MP3, l'MP3 audio di questo video però magari facciamo una prova per farvi vedere allora come si può modificare, come si può convertire un audio da un formato ad un altro. Ad esempio una cosa interessante è FFmpeg, come funziona la sintesi di FFmpeg. Torniamo a far vedere un attimino questa slide qua così ce la facilitiamo un attimo. Ecco, eccoci qua. Questa qua è la sintesi di FFmpeg, cioè il comando. Poi c'è la parte meno i dove gli diamo tutti i file di input che gli vogliamo dare in pasto da codificare, modificare, tagliuzzare, friggere, cuocere, bollire. Gli diciamo come li deve friggere e bollire con lo switch meno filters e poi gli diciamo come si deve chiamare e in che formato deve essere il file di output. Quindi se noi andiamo a richiamare questa sintesi noi possiamo dire FFmpeg vai a prenderti il file. Allora io qua adesso devo salire di due livelli, perdonatemi perché sostanzialmente spieghiamo anche questa cosa. Allora possiamo fare forse per semplificare, mettiamoli direttamente in quella cartella e diamo questa indicazione, cosa ne dici? Assolutamente sì. Poi chissà come si sale e si scende di livello nel terminale lo può fare, ma per chi non ha idea forse è più facile, che ne dici? Allora facciamo così, guarda facciamo un bel taglia e le mettiamo dentro bin così i file source li abbiamo tutti qua dentro. Quindi adesso abbiamo i file all'interno della cartella bin nella quale ci troviamo col terminale. Esatto, quindi scendiamo di un livello source e qua dentro se io faccio tab ho tutti i file che mi sono già preparato, ve li faccio rivedere giusto per correttezza. Quindi se io vado, vedete questi qua sono tutti quanti l'MP4, un MPEG, un AVI, un JPEG, un MKV e un MP3. Ad esempio a noi potrebbe essere interessante convertire questo file audio in, non lo so, come lo vogliamo chiamare, in lost-sky.wav. Che le dici? Convertiamo un file MP3 in un file wav. A questo punto io aggiungo uno switch perché ci servirà per evitare che faccia una sbrodolata di testo inutile durante il tutorial che potete utilizzare anche voi ed è meno hide banner. Ok? Questo meno hide banner semplicemente toglie le prime cinque righe dell'output dicendo come è compilato FFMPEG, tutta la sua storia che noi in questo caso non ci interessa. A questo punto lanciamo ed è avvenuta la codifica. È stato ultra fast? Che dici? Beh direi molto veloce, non illudetevi perché non è sempre così, dipende da cosa gli fate fare, ma in questo caso super. Semplicemente gli abbiamo detto cosa doveva prendere, come ce lo doveva uscire e che cosa fare eventualmente che in questo caso era solo non farmi vedere tutta la sbrodolata di testo. Esattamente. Pensate che la velocità è stata 559 volte la velocità di play del file, quindi il Lost Sky che noi ascoltiamo alla velocità di 1x, lui l'ha codificato a circa 600 volte più veloce la velocità del play normale della canzone. Quindi ci ha messo pochissimi secondi. Se noi andiamo a vedere all'interno della cartella di FFMPEG dove io ho sostanzialmente codificato, eccolo qua il nostro Lost Sky.wav. Ovviamente la dimensione è molto più grande perché è circa 38 mega rispetto ai circa 3 mega e mezzo del file MP3. Quindi che cosa c'è da imparare? C'è da imparare che FFMPEG.exe per i sistemi Windows, mentre sarà soltanto FFMPEG su sistemi Linux o Mac OS, è l'eseguibile da chiamare. Gli diamo il file di input, cioè che cosa vuoi trasformare questo file e gli diciamo come lo deve trasformare. FFMPEG è talmente intelligente e scritto bene che basta solo indicargli in alcuni casi l'estensione del file. E lui in automatico si prende dei predefiniti e decide come codificare il file MP3 in formato WAV. Come lo possiamo verificare? Lo vediamo in questo output. Questo praticamente è la riga in cui sta dicendo guarda che lo stream 0, o meglio questo stream 0 qua, che è in formato MP3 Flot, lo trasforma in PCM S16 quel che l'è, che è il formato WAV. Ok? E qua sotto ci sta dicendo come sta costruendo questo formato WAV, cioè lo crea in PCM a 44100 Hz, stereo e tutta una serie, il bitrate e quant'altro. Quindi queste sono informazioni utili per persone che vogliono capire anche, ok, ma io gli ho semplicemente dato un'estensione, ma lui che cosa ha fatto? Ecco, lo vedete direttamente nell'output, tutta la serie di preset predefiniti che lui utilizza, perché il codice di FFMPEG è stato scritto in questo modo. Ovviamente noi potevamo decidere di fare questo WAV in altre modalità, magari non a quel bitrate, magari non a 44100, ma lo scopriremo i vari switch andando avanti, perché ci sono tantissimi comandi per poter modificare tutti questi preset. Fantastico. Ma senti, hai in previsione adesso a breve di dire del regalo che linkeremo nelle note dell'episodio o lo avresti fatto dopo? Ma dillo tu, dillo tu, dai. Lo dico io, perché questo secondo me potrebbe essere già interessante in modo che voi che ci state guardando possiate dire, cavoli, comunque io già inizio ad avere qualche piccola difficoltà, ho capito, però magari rischio di sbagliare la letterina, di sbagliare l'errore di scrittura sulla tastiera, beh, non vi preoccupate perché abbiamo proprio un bel regalo per voi. Troverete, è linkato nelle note dell'episodio, un documento di Google Drive che abbiamo realizzato insieme a Maurizio dove tutte le cose, o la maggior parte, la stragrande maggior parte delle cose che vi stiamo spiegando, le trovate in modo che possiate fare un semplice copia e incolla. Ecco che vedete, proprio che ora Maurizio lo ha evidenziato, vedete esattamente il comando che ci ha appena spiegato Maurizio qui sopra. Quindi, in questo caso, vedete che il comando è per convertire un WAV in mp3, noi abbiamo fatto l'opposto, questo qua voi ve lo prendete, ve lo copiate e ve lo andate ad incollare nel vostro terminale. Non dovete fare più nulla, attenzione, in questo caso, se usate Windows, aggiungete il .exe nel comando. E così via, andando avanti, tutte le cose di cui vi parleremo durante il tutorial le trovate tutte. Per cui, niente paura, non dovete mettervi a scrivere tic 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 sulla tastiera, ma avete già tutto pronto per essere utilizzato. Dicevamo prima, Andrea, che FFmpega tutta una serie di preset in base, che decidi di utilizzare in base all'estensione del file di output, ma abbiamo anche detto che però questi preset possono essere modificati. Allora, facciamo vedere come convertiamo questo file WAV che abbiamo costruito, però in formato mp3. Cioè, lo riconvertiamo in mp3, però decidendo noi che bitrate, quale tipo di frequenza, quale T6 stereo o mono. Che ne dici? Sì, molto interessante. Allora, il comando è questo qua e, come vi dicevo prima, modifichiamocelo sul file di testo. Quindi facciamo vedere l'operatività che le persone possono fare direttamente a casa. Quindi, ffmpeg.exe perché siamo su un sistema Windows. Il file abbiamo detto che si chiama così. Sì, quindi andiamo, quando selezionate poi premete invio perché sennò non vi funziona il copia e andiamo ad incollare. Quindi abbiamo detto ffmpeg, vatti a pescare il file punto WAV e gli diciamo meno C due punti A. Che cosa vuol dire meno C due punti A? Vuol dire questo. Meno C vuol dire... Allora, a questo punto ti dico, guarda che questo WAV lo devi trasformare in un codec. Quindi la C sta per codec. Ok. Codec di che tipo? Audio. Ok. Che tipo di codec audio? MP3. Perfetto. Allora, lui trasformerà l'UAV in MP3. Poi gli dirò meno B. Che cosa vuol dire? Meno B sta per bitrate. Quindi è quella cosa che noi podcaster, ad esempio, decidiamo. Ah, il mio podcast lo trasformo in bitrate a 96K, 128, 192. Ad esempio tu, Andrea, il tuo podcast come lo converti? Con che bitrate? Rigorosamente 96K. Eccolo qua. Io invece faccio un 128 per questioni... Perché tu sei un audiofilo, lo so, immagino, ti conosco. Quindi diciamo meno bitrate, sì, ma meno bitrate di cosa? Di una file, di un audio. Quindi gli abbiamo detto, crea un bitrate audio a 192K. Ok. E poi diciamo, meno audio R. Allora, questo meno AR sta per la frequenza per cui deve essere convertito il file WAV. Quindi manterremo la stessa frequenza, quindi 44100. Meno AC vuol dire meno A channel, meno audio channel. Vuol dire che stiamo per fare un MP3 con due canali, quindi left e right, sinistro e destra. Stereo. Bravissimo. E a questo punto gli diciamo... Nel caso in cui lo vogliate fare mono, sostituite al 2 un 1. Esattamente. Basta fare canch 1. A questo punto ci creerebbe un file mono. Noi lo facciamo stereo. E poi gli diciamo il nome del file, output.mp3. A questo punto possiamo fare un bel CTRL-C, o tasto destro copia. Tasto destro, lui incolla in automatico. E teoricamente, se tutto va bene... Ecco, non ho fatto ad esempio meno hide banner, quindi ci ha dato tutta questa parte iniziale. Ecco, così lo vediamo anche. Esattamente, così lo vediamo anche. Quindi, prima abbiamo visto da qua, gli abbiamo detto, questo è il tuo input UAB. Sì, lui ha un bitrate di 1.411. 44.100. Ok, trasformalo da un PCM e fallo diventare un MP3. Va bene, fallo diventare un MP3. Come? Con questa frequenza, stereo, a 192k. Quindi ha seguito le nostre direttive. Qualora noi non dicessimo nulla, ma avessimo semplicemente scritto una cosa di questo tipo, la facciamo così, puliamo il OK, ma avessimo semplicemente scritto questa cosa qua. Come si pulisce il terminale? CLS. CLS, grazie. CLS. O sui sistemi Linux, clear. Quindi dicevamo, se noi avessimo scritto semplicemente questo, FFmpeg avrebbe usato il suo preset di default, che non è 192k, ma è 128k. Io l'ho fatta apposta questa cosa di scrivere meno B due punti A, proprio per farvi vedere. Adesso magari lo rifacciamo. Adesso ci chiederà l'overwrite. Yes, noi vogliamo sovrascrivere. Adesso sta convertendo, ci metterà un attimino. Ok. E se noi andiamo a vedere, facciamo FFmpeg meno, punto ex, meno i, Lost Sky di mp3. Dove l'abbiamo? Ah no, output punto mp3. Questo qua è un file da 128k. Quindi lui come preset FFmpeg, se noi non gli diciamo assolutamente nulla, codifica gli mp3 con questo bitrate. Quindi la differenza sta proprio nello specificare, io ti dico cosa devi fare, farlo in questa modalità. Ed FFmpeg esegue il nostro comando. Oltretutto specifichiamo anche una cosa che magari abbiamo dato per scontato. In questo caso vi facciamo notare che noi abbiamo preso un mp3, l'abbiamo trasformato in WAV e poi di nuovo in mp3. Ovviamente FFmpeg non può fare le magie. Quindi se voi partite da un file mp3, non è che poi convertendolo in WAV vi ritrovate tutta la complessità audio del WAV. È comunque una roba di cui l'orecchio non si rende conto, l'orecchio umano. Però per specificarlo ovviamente lui converte soltanto il formato, non può recuperare qualità. Esatto perché mp3 è un formato lossy, cioè vuol dire che è una conversione che distrugge tutte quelle frequenze che l'orecchio umano non ascolta, quindi dal WAV le distrugge, le cancella e fa percepire solo le frequenze che sono audibili soltanto dalle persone umane. Questo comporta che un file da 40-50 MB in formato WAV diventa un mp3 da 3, 4, 5 MB. Ovviamente una volta distrutto, essendo distruttivo il formato mp3, non si può, ritrasformandolo in WAV, ricostruire tutta quella parte che è stata persa nella precedente conversione. Quindi chi ha un orecchio un po' fine può sentire ovviamente la differenza. Qualora invece voi utilizzaste un codec non lossy ma lossless, cioè senza perdite di date, ad esempio il FLAC, allora a quel punto le conversioni sarebbero tranquillamente paragonabili e non ci sarebbe assolutamente nessuna differenza. Ma questo è un altro dettaglio delle mille rivoli di FFmpeg. Io procederei avanti con un altro comando, Andrea. Assolutamente sì. Ok. Allora, noi abbiamo all'interno della nostra cartellina source, io ho preso un mkv e un mp4, ma a me ad esempio piacerebbe trasformare un mkv tipo questo in formato mp4, anche perché è più piccolino. Vediamo un attimino cosa riusciamo a fare. Quindi passiamo da un formato video ad un altro formato video. Esattamente. Allora, io vado a copiarmi il comando che voglio utilizzare. Ovviamente qua aggiungo il punto exe. Allora, il file che vogliamo usare è lost-sky.mkv sotto la cartella source, quindi andiamo a scrivere source slash lost-sky.mkv punto exe.mkv, quindi sarà un codec video. Quindi il codec video che vai a utilizzare è libx264, quindi la codifica h264, con un crf19. Allora, crf19 significa, magari lo facciamo vedere che cosa significa crf19, perché è una cosa che avevamo scritto. Eccola qua. Il crf19 è questa cosina qua. Facciamo in questo modo. Il crf19 è il quantizzatore di qualità e viene di un formato video e viene espresso con un numero che va da 0 a 51. 0 è nessuna perdita, 18 è una buona qualità, 23 diciamo che è il valore medio che di solito viene utilizzato. Da 23 in su, sostanzialmente, andiamo ad avere un file molto piccolo, molto compresso, ma abbiamo una pessima qualità. Noi, in questa codifica, vorremmo utilizzare un crf19, quindi una buona qualità senza stare a perdere troppa qualità. Qua abbiamo anche, ad esempio, un preset slow. Allora, questo preset io l'ho messo perché potrebbe capitarvi di andare a fare qualche ricerchina sui vari forum di Google e vi potrebbe capitare di trovare questo tipo di switch. I preset slow, first pass, second pass, sono preset che vengono, sono specifici dei codec video che state per andare ad utilizzare. Slow vuol dire vai piano, però codificami bene il file video. Potreste trovare fast o anche ultra fast, quindi la codifica video, l'algoritmo video che viene utilizzato, passa velocemente sopra il file, non sta tanto a perdere tempo. Ah sì, va bene, quella chiave là va bene così, non importa, lui va velocissimo, però si perde in termini di qualità. Quindi magari il file potrebbe essere leggermente più grande, ma con una qualità che potrebbe non essere ottimale. Questo preset lo potete utilizzare come non utilizzarlo. Noi potremmo tranquillamente anche cancellarlo. E poi passiamo avanti alla parte audio, perché noi qua a questo punto abbiamo la prima parte dove stiamo dicendo fammi la conversione in video. Adesso inizia... Con codec video, C2.V. Esattamente, C2.V è la parte video. Adesso iniziamo col meno C2.A, cioè utilizza il codec audio AC. Quindi vogliamo trasformare l'audio che c'è qua dentro in AC, come abbiamo visto con un bitrate audio A64K, e come abbiamo detto prima con due canali audio, quindi stereo. E poi semplicemente gli si dice da MKV trasformalo in MP4. Proviamo a farlo. Secondo me è super chiaro. Magari cancella sempre il terminale, perché sotto ci sono i nostri faccioni e non si vede bene. Ok. Allora, facciamo anche un meno hide banner, così, facciamo così. Facciamo un CLS. Perfetto. Vado ad incollare il comando. Control-C. Ok. Quindi ffmpeg.exe, source, lossky, mkv, parte di video in X64, crfactor, la parte audio, fammela in questo modo, costruisci questo file MP4. E non farmi vedere tutte le scritte. E non farmi vedere tutte le scritte. A questo punto lui inizierà la conversione. Ovviamente adesso è un file video e audio, cioè una parte audio e una parte video, perché sono due gli stream che sta codificando, che va a una velocità di 0.2, quindi va molto lento. Io adesso stopperò, anche perché non ci interessa. Ok, ho stoppato. Però il file... Vi facciamo notare, questa cosa qua, sottolineiamola, nel caso in cui voi facciate un video ci vorrà comunque più tempo. In questo caso, questo video, facciamo finta che durava un minuto? Beh, per fare questa conversione magari ci volevano 5 minuti di tempo. Esattamente. Quindi la speed che noi, noi di solito i film li guardiamo a 1x. In questo caso è come se stessimo guardando un film a 0.2x di velocità. Quindi è molto lento. C'è una cosa interessante. Questo time qua, non è il time, cioè il tempo che ci sta mettendo, ma è il time del file video. Cioè, sono arrivato a codificare il terzo secondo a 32 primi. Quindi è, diciamo così, nella timeline del file video, è esattamente il punto in cui sta facendo la codifica. Con CTRL-C, noi diamo un segnale di stoppati, fermati. Non importa, va bene così, cioè annulliamo la codifica. Ovviamente voi non datelo mai se la codifica la volete portare a termine. Noi per semplicità e velocità in questo tutorial cercheremo di daremo CTRL-C un paio di volte. Quindi se vi capita anche a voi di dover interrompere, andate con il CTRL-C e fermate tutto. Esattamente. Quindi nella nostra cartella pin, dove stiamo depositando tutti gli output, abbiamo out.mp4. Quindi il file che era mkv, che potremmo anche fare una cosa molto interessante, la facciamo CLS. Facciamo ffmpeg.exe-i source e andiamo a beccarci le informazioni di quel file, meno hide, così vediamo anche come può essere utilizzato ffmpeg. Cioè vedere come sono costruiti i file video e come sono compressi. Ecco, qua ci sta dando delle informazioni. La prima informazione è, guarda che questo mkv è formato da uno stream che si chiama 0.2.0, ed è uno stream video, e ha un codec che si chiama VP9. Questo file video ha una risoluzione di 1920x1080, quindi è un full HD, ok? 60 frame, tutta una serie di informazioni. Attenzione, perché in questo file mkv c'è anche un audio, e quell'audio è già in AC da 44.100 Hz. Quindi ffmpeg-i senza nessun tipo di file in output, quindi senza dare nessun comando in output, lui da semplicemente un'informazione di come è costruito il file che state per andare a modificare. Se noi andassimo adesso a prendere invece output mp4-hidebanner, cioè il file output che abbiamo poco fa bloccato nella codifica, andiamo a vedere che ecco, il video non è più VP9, ma è un H.264. Perché gli abbiamo detto, utilizza l'H.264. Poi mantiene ovviamente la risoluzione, cioè nel senso che non va a modificare, a tagliare, perché non gli abbiamo mai detto di tagliare o di fare un resize o uno scale. Sto facendo un po' di trailer su un po' di, diciamo, delle informazioni di spoiler, bravissimo. Ogni tanto do degli spoiler. Un'altra cosa interessante ci sta dicendo, guarda, che l'audio lo stai ricodificando in AC, quindi potremmo, potevamo semplicemente anche fare una copia di questo audio, perché tanto era già in AC. Allora, che cosa vuol dire questo? Vuol dire che se noi, ad esempio, abbiamo questo file video e lo vogliamo convertire perché magari nel dispositivo che vogliamo utilizzare per vederlo non è compatibile, ok, faccio un esempio che può essere molto tangibile, abbiamo la necessità di trasformare la parte video da VP9 a X.264, perché questo dispositivo, tablet, televisore, raspberry, quel che l'è, non legge il VP9. Perfetto. L'audio in AC lo legge? Sì, perfetto. Allora noi potevamo fare anche un'altra cosa interessante. Di questo MKV, anziché codificare, quindi perdere tempo a codificare sia l'audio che il video, potevamo codificare semplicemente solo la parte video che non era compatibile, quindi il VP9, e mentre copiare direttamente la parte audio, quindi senza far perdere tempo alla CPU di riprocessare completamente la conversione della parte audio. Come facciamo? Facciamo ffmpeg.exe, meno i, andiamo ad andare in output il nostro file, quello che ci dobbiamo sostanzialmente modificare, mentre prima gli dicevamo, guarda che la parte c, lib, x264 ha questo valore, la parte audio, gli semplicemente gli potevamo dire, cancelliamo questa roba, gli dicevamo, copy. In questo modo l'audio non veniva assolutamente toccato, rimaneva intatto, e lui riassembrava l'audio copiandolo sotto il video appena codificato. Questo ci permette di fare delle codifiche solo delle parti che ci interessano, e soprattutto di risparmiare tantissimo tempo in fase di codifica. Attenzione, perché questa cosa qua, voi potreste trovarla scritta anche in un altro modo, scritta in questo modo qua. Adesso magari vado a capo, faccio così, e ve lo metto sotto. Meno a codec, copy. Questa è la famosa, il discorso che facevamo prima, attenzione perché gli switch di ffmpeg non sono sempre scritti nella stessa maniera, cioè potreste trovarli scritti in modalità differenti, però alla fine la funzionalità è la medesima. Perché? Perché essendo un prodotto open, c'era lo sviluppatore che gli piaceva, meno a codec, copy, e c'era lo sviluppatore che voleva risparmiare tre caratteri, due caratteri, e ha scritto meno C, due punti A, copy. Quindi, però, la funzionalità è la medesima. Quindi se noi facessimo, lanciassimo mai la codifica di questo tipo, andremmo semplicemente a ricodificare la parte video, mentre la parte audio rimarrebbe completamente intatta. Super chiaro. Bene, andiamo avanti con la nostra listona dei comandi interessanti. Io ogni tanto faccio sbirciare sul documento che poi vi linkiamo. Certo. Beh, abbiamo fatto appena adesso la parte MKV e MP4, alla fine della fiera, stai inquadrando il documento? Sì. Perfetto. Ad esempio, noi qua, nella conversione di MKV e MP4, io avevo scritto, ad esempio, prendevamo un file AVI, quindi i file che si codificavano alcuni anni fa, circa negli anni 90, inizio 2000, si utilizzava questo container. Sono contenitori, AVI, MKV, MP4 sono contenitori, perché? Perché contengono all'interno uno stream video e uno stream audio, oppure uno stream video più stream audio. L'AVI è vecchio, quindi è un contenitore che può contenere uno stream video e uno stream audio. Mentre MKV ed MP4 sono contenitori molto più moderni, MKV viene anche chiamato Matroska, e all'interno di questi contenitori possono essere inseriti più stream audio. Quindi se voi avete un video con, che ne so, l'audio in italiano e in inglese, potete tranquillamente inserirli entrambi, nessun problema. Avranno ovviamente una linguetta differente, cioè, anziché chiamarsi stream 01, che è l'audio in italiano, poi ci sarà stream 02.2, che sarà lo stream in inglese, e ovviamente poi dal player che state utilizzando switcherete tra l'italiano e l'inglese. Questa è un'altra cosa che può essere interessante. Convertiamo, ad esempio, ecco, convertire video in audio. Questo è molto utile, è una cosa che io faccio spesso, ad esempio, faccio i video e poi li converto in audio. Ok, allora, ffmpeg.exe, perché siamo su Windows, meno i input, a questo punto gli possiamo dire, guarda, a me interessa il file sempre Lost Sky, che ci piace tanto, meno sky.mkv, con la S maiuscola, e gli diciamo, gli diciamo, attenzione, guarda che a me del video non me ne frega nulla. Gli diciamo, meno vin, no, n, basta, finito, non mi interessa, non lo voglio proprio vedere. Questo meno vn è uno degli switch che vi viene subito fatto vedere all'inizio della documentazione di ffmpeg. Ci sarà meno an per quanto riguarda l'audio, quindi se voi avete un file video con audio e video e vogliete togliere completamente l'audio, voi scrivete meno an, quindi lui cancella completamente la parte audio. Viene completamente ignorata, viene demappata dalla struttura della sintassi di ffmpeg. Una volta che abbiamo eliminato la parte video e gli diciamo, ignorala completamente, non la voglio neanche vedere, gli diciamo, meno codec audio, quindi, ma la parte audio che mi interessa falla in mp3 con un bitrate audio, quindi due punti A, da 192k, con una frequenza a 44100Hz in formato stereo, audio channel 2 e costruiscimi il file che si chiama output.mp3 meno hide banner che ci piace tanto per evitare di vedere quella sbrotolata di comandi e a questo punto diamo un bel CLS, facciamo il tasto destro che non abbiamo copiato, quindi CTRL-C, tasto destro e andiamo a fare la nostra conversione. Sì, ovviamente sì, perché abbiamo già fatto un po' di mastruzzi, un po' di paciocca, menti vari, ecco, in questo momento lui sta andando a speed 42x, ecco, ha finito la codifica. È stato rapido. È stato molto rapido, anche perché lui ha completamente ignorato la parte video. Video. Perché la "-vn", gli ha semplicemente detto quella ignorala completamente e costruiscimi un file mp3. ffmpeg.exem-ioutput.mp3, che è lui, ok, e ci dice, ok, perfetto, ti ho costruito il file audio in formato mp3 con il bitrate a 192k. Quindi è quello che gli abbiamo chiesto prima con questo comando qua sotto. Super, abbiamo un bel mp3 dal nostro video, quindi chi, per esempio, fa video YouTube ma poi vuole estrarre e strapolare anche l'mp3 per fare il podcast, in questa maniera ci mette tre secondi, lo avete visto, e ha il suo bel episodio podcast già bello pronto. Esattamente. Come dicevamo prima, Andrea, gli mkv, il matroska, è un contenitore molto recente e ha la funzionalità di avere anche più flussi audio. Quindi è possibile che ci siano all'interno dello stesso mkv il flusso audio in italiano e in inglese. Però a questo punto, come andiamo a scoprire, come andiamo a scoprire sostanzialmente come è fatto un file con più flussi audio? Beh, con il solito comando. Anche perché, mentre tu scrivi il comando, se avete seguito il tutorialone su OBS Studio, sapete che io vi consiglio di realizzare i vostri video da OBS Studio in formato mkv, proprio allo scopo di avere più tracce audio. In questo momento stiamo registrando questa guida completa, la mia voce si troverà su una traccia, la traccia di Maurizio si troverà su un'altra. Esattamente. Allora, io ad esempio ho fatto adesso l'inspection, cioè sono andato a vedere i dettagli del file mp4. Mp4 e mkv sono container molto recenti e possono avere più stream audio. In questo momento l'MP4 ha soltanto uno stream audio. Andiamo a vedere se l'MKV invece ne ha più di uno, perché non mi ricordo. Andiamo a vedere. Source, Lost Sky MKV-HideBanner. Ah, mannaggia, abbiamo soltanto uno stream audio, ma non importa. La cosa interessante è questa. Noi avremmo potuto avere qua sotto un altro stream che si chiamava 0.2.2. Quindi sostanzialmente una cosa di questo tipo. Andiamo a costruircela noi. CTRL-V diventava 0.2. Ok? Quindi abbiamo lo stream 0.1. Stiamo parlando di stream audio in questo momento. E lo stream, potremmo avere lo stream 0.2. Quindi sono due audio. Mettiamo che questo sia in ita e questo sia in inglese. Però, come facciamo a dire a FFmpeg vatti a prendere questo audio specifico? E beh, adesso introduciamo un comando che secondo me è molto complesso per certi versi, ma è un comando anche molto semplice se hai capito il giochino di queste label, di queste etichette, da utilizzare per estrapolare l'audio che ci interessa. Ad esempio, il comando che io adesso vi voglio far utilizzare è sempre quello di estrazione da un file video come abbiamo fatto prima. Quindi abbiamo, in questo comando, noi stiamo dicendo, il comando è questo qua, stiamo dicendo caro file che noi chiamiamo source slash lost meno sky punto mkv mappati l'audio in questo caso noi non l'abbiamo lo 0.2 quindi gli diamo comunque lo 0.1 ma volessimo mappare lo 0.2 gli diciamo mappati l'audio 0.2 ok e trasformalo in codec vedete che qua lo switch è di nuovo diverso? E meno a codec mp3 questa è una sintesi completamente diversa avremmo potuto scriverlo in questo modo questa è la bellezza barra bruttezza di di ffmpeg meno c due punti a mp3 è la stessa cosa di quello che c'è scritto sopra meno b due punti a 128k è la stessa cosa di quello che c'è scritto sopra soltanto che è espresso con una sintesi leggermente leggermente differente chiaro? super chiaro quindi il comando map serve a prendere uno stream audio specifico all'interno del mio file esattamente se abbiamo un file con multitraccia audio possiamo andare a dirgli mi raccomando pescati quella che mi interessa inutile che mi estraggo la lingua in cirillico in russo o la lingua in turcomanno quando non mi interessa e mi interessa l'italiano che anziché essere la prima è la 099 no voglio solo quella perfetto meno map 0 due punti 99 trasformalo in mp3 figo ok da un mkv ho tirato fuori un mp3 in lingua italiana che mi interessava se io adesso con questo video che sto realizzando volessi estrapolare la mia voce e la tua mi basterebbe lanciare due volte questo comando ogni volta con la traccia relativa alle nostre voci diciamo anche che ovviamente come potete immaginare ffmpeg permette di fare in automatico l'estrapolazione delle due tracce audio ma non vorrei complicarvi troppo la vita sappiate che si può fare non so se poi nel corso del tutorial ve lo spiegheremo in ogni caso semplifichiamo un po' lanciate due volte il comando una volta per la traccia voce cirau una volta per quella voce lo nobile e in quel caso avete le due tracce che potete elaborare separatamente perfetto ma anche il metodo più facile Andrea andare a concatenare troppi switch troppi comandi di mappatura se non sia di mistichezza all'inizio io ve lo sconsiglio all'inizio è stato difficile anche per me capirlo non è stato facilissimo perché ffmpeg ha una sintassi particolare e purtroppo anche quando si va a cercare su internet qualcuno scrive in un modo qualcun altro scrive in un altro modo e non sempre si capisce perché è stato scritto in quel modo il comando di mappatura quindi bisogna un attimino orientarsi fare delle prove piuttosto se dovete estrarre più tracce fate come ha detto Andrea rilanciate il comando più volte ed estraetevi quello che vi interessa io andrei avanti con una conversione che secondo me i podcaster hanno diciamo così la conoscono e già lo fanno in altri metodi ma noi gli insegniamo ma qui gli facciamo un regalo ragazzi questo è un regalo super ai podcaster che questa è una roba che adorano sì esatto la conversione di un podcast in un video ad immagine fissa eh sì perché è una cosa che facciamo tutti con Uave non mi ricordo come si chiama l'altro servizio che adesso è uscito Timeline boh non mi ricordo insomma comunque ci sono tanti servizi online che però sono a pagamento o con delle grosse limitazioni ffmpeg con un copia e incolla vi siete fatti il vostro bel file statico da mettere su YouTube esatto a costo free dovete solo imparare con questo tutorial come fare e il comando che andiamo ad utilizzare è questo è un po' lungo va a capo ma insomma dai lo capiamo quello che ci interessa in questo comando è quello di unire un'immagine che può essere un jpeg un png oppure un webp il nuovo formato da poco rilasciato da Google a il nostro file audio quindi unire statica un'immagine statica ad un file audio che può essere poi caricato ad esempio su YouTube fare il classico podcast su YouTube e però per fare questo poi bisogna dirgli anche mi raccomando che codec video vai ad utilizzare usa l'X264 ok guarda non mi interessa che tu sia slow vai veloce perché tanto l'immagine è sempre fissa quindi non c'è molto da andare a calcolare va bene ok poi meno tune stile image ecco questo è uno switch molto particolare viene utilizzato per le immagini fisse quindi questo switch prendete copiate incollate senza andare a fare troppe troppe indagini perché è uno switch specifico per questo tipo di codifica il CR factor è quello che abbiamo visto prima quindi un 18 e sotto 23 quindi è molto buono come qualità d'immagine e poi andiamo a dire se l'MP3 noi che abbiamo già generato del nostro podcast è già nel formato che alla fine ci interessa perfetto non stare a ricodificarlo ma semplicemente copialo non stare a ricodificarlo in AC piuttosto che in qualcos'altro perché addirittura potremmo anche rischiare di andare a ridurre ulteriormente la qualità del nostro podcast meno shortest è sostanzialmente quando fa è uno switch che ci permette di dire quando il primo che termina tra il file audio e il file immagine praticamente termina la codifica sostanzialmente se noi abbiamo ovviamente l'immagine in questo caso è in loop perché abbiamo all'inizio un meno loop 1 ovviamente andrà avanti ogni due frame sostanzialmente ecco l'inizio di questa cosa qua di questo comando qua gli viene detto l'immagine .jpeg ogni due frame inserisci un'altra immagine quindi è costantemente in loop l'immagine andrà avanti all'infinito come se fosse un video infinito bravissimo però io devo dirgli prima o poi a ffmpeg fermati di codificare per come lo faccio dicendogli meno shortest quindi il meno shortest infatti scusa questo lo devo dire lo so per esperienza personale se non mettete quella roba lì il vostro ffmpeg inizierà a lavorare all'infinito io l'ho lasciato per ore e ore e ore dicevo ma quando cacchio finisce di fare sta roba mi facevo un video di 10 ore 20 ore perché mi ero dimenticato di interromperlo al termine dell'audio eh sì il meno shortest purtroppo è diciamo così non si intuisce subito però effettivamente è necessario quindi vuol dire che se l'immagine va all'infinito ma il podcast dura 3 minuti al terzo minuto lui termina di codificare meno pix format e il formato video non andiamo ad indagare ce ne sono un milione di formati video questo è quello che ci serve e poi andiamo sostanzialmente a dire creaci il file a video con il nome output.mp4 allora nella mia cartella source io ho un jpeg che si chiama factotum.jpeg un nome a caso quindi source slash factotum.jpeg e come file audio possiamo usare lost-sky.mp3 tanto non è quello che ci interessa quindi andiamo a dirmi ormai ci tengo siamo affezionati a questo file vi faccio notare che anche voi potete fare la stessa cosa che sta facendo Maurizio quindi un bel copia e incolla di tutta la stringa e vi andate a cambiare soltanto i due input questa cosa qua la voglio sottolineare se fino ad ora avevamo usato un singolo input ogni volta questa volta gliene abbiamo dati due uno dopo l'altro mettendo due volte la i col trattino prima esattamente quindi ffmpeg codificherà .exe codificherà ogni due frame in loop infinito il file immagine e il file audio ma il file audio si fermerà col meno shortest quindi se noi andiamo adesso a fare ctrl c andiamo a incollare il nostro comando meno anzi facciamo così cls puliamo tutto che ci piace di più meno hide banner lui adesso sta andando a codificare è arrivato al secondo minuto terzo minuto ha già finito quindi lui ha costruito adesso lo facciamo anche vedere questo video che abbiamo appena prodotto è stato codificato a la velocità di 40 per e ha codificato un file video di 3 minuti e 42 il risultato è attenzione come l'abbiamo chiamato output.mp4 vero? mi sembra di sì esattamente lui non penso possiate ascoltare l'audio ma sostanzialmente però questo è un bel video con un audio sotto esattamente si sente la canzone Lost Sky con l'immagine fissa del vostro podcast quello che vi interessa sostanzialmente attenzione perché se volete cimentarvi con questo tipo di costruzioni di immagini c'è qualche nerd che ha provato anche a costruire degli slideshow video con immagini hai presente Andrea le immagini del battesimo del matrimonio con le transizioni hai voglia certo ok beh qualcuno l'ha fatto con FFmpeg quindi ha dato come input un centinaio di file immagine sotto gli ha messo un file audio che ovviamente gli piaceva e ha costruito uno slideshow quindi un file mp4 con dentro le immagini del battesimo e la musica che andava lo potete fare direttamente con FFmpeg ma fantastico ma fantastico vi voglio far vedere un utilizzo che ho fatto io e che faccio io di questa funzionalità nel mio canale youtube qualche volta quando io propongo dei podcast e che voglio portare in formato video lo faccio con questa roba che voi adesso vedete quindi sulla sinistra creo su canva semplicemente o con qualsiasi software per fare immagini creo e anche su canva c'è il tutorial sul canale lo trovate creo la metto la copertina da un lato dall'altro lato scrivo guarda che questo è un podcast è il motivo per cui non vedi delle immagini ma vedi soltanto questa foto nella descrizione ci sono tutti gli altri link ai podcast veri e propri iscriviti che quello non fa mai male per cui in questa maniera voi con un'immagine statica avete ottenuto il vostro risultato bello complimenti andiamo avanti con la parte video che magari vogliamo provare a tagliare che ne dici è assolutamente tagliare molto utile anche perché tagliare un video se io mi metto ad aprire da vinci resolve o film ora che sono dei software oni eccezionali o qualsiasi altra roba voi usiate nel mio computer che comunque non è un computer modernissimo ora che io ho aperto da vinci resolve posso andare a fare colazione pranzo e cena e tornare perché ci mette almeno un minuto due se non tre soltanto per aprirsi ah sì addirittura io sinceramente uso hitfilm quindi non ho questo tipo di problema però effettivamente il rendering poi della parte video è qualcosa di estenuante molto molto lungo e per tagliare pochissimi secondi mi sono sempre chiesto ma esiste uno strumento per fare dei tagli rapidi esiste ffmpeg che ci permette di fare sostanzialmente non cose volutissime attenzione perché se vogliamo fare dei tagli come gli editor non lineari quindi da vinci resolve piuttosto che hitfilm se non li conoscete sostanzialmente un editor video non lineare è un editor dove viene caricata la traccia video e poi può essere tagliata con la taglierina spostati gli spezzoni composto con più file audio più file video fate tutta una serie di transizioni quindi è un prodotto molto completo che ci permette di manipolare al massimo il nostro prodotto audio video soprattutto quello video quello che possiamo fare con ffmpeg però può esserci utile perché ci permette ad esempio con questo comando dal secondo x taglia per x secondi quindi se ad esempio noi abbiamo un video dove i primi 10 secondi sono di muto e vogliamo farlo in tempo veloce possiamo farlo tranquillamente con ffmpeg il comando è molto semplice in questo caso gli viene detto ad esempio ffmpeg.i prendi il nostro file lost meno sky.mkv che ci piace tanto parti ai secondi gli si può dire 0 0 0 0 0 0 quindi parti dall'inizio oppure gli si può dire attenzione potresti partire dal quinto secondo per intenderci però noi vogliamo partire dal minuto 0 e vogliamo solo recuperare i primi 10 secondi del video ecco facciamo così per quanti secondi per 10 secondi quindi 0 0 0 0 2.10 e gli dobbiamo dire poi come vogliamo chiamarlo lo vogliamo chiamare cat.mkv ovviamente questo tipo di operazione purtroppo è esosa in termini di consumo cpu perché comunque deve essere fatta un'operazione di ricodifica in alcuni casi non sempre può essere fatta on the fly e quindi attenzione perché è vero che lo strumento è rapido però ci potrebbero essere se avete dei file soprattutto di altissima qualità intendo dire in 4k o almeno in full hd ecco quei tipi di file potrebbero crearci insomma dei problemi delle lentezze però noi proviamo a fare quello che abbiamo appena scritto sulla nostra riga di comando però ovviamente ci manca il punto x e gli abbiamo detto parti da 0 e taglia per 10 secondi quindi lui sostanzialmente ci dovrebbe produrre un file di 10 secondi adesso ci metterà un po' vediamo ha codificato il secondo 1 il secondo 2 vedete che ci mette un po' il secondo 3 io adesso lo stopperò perché se no ci mettiamo un pochino però nel frattempo specifichiamo una cosa mentre lui va che questa cosa è identica la potete fare anche per l'audio l'unica differenza è mettere degli input audio invece che video esatto ormai siamo arrivati al settimo secondo ottavo secondo vediamo se riusciamo a finirlo così facciamo vedere l'operazione completa 9 minuti e 30 9 secondi e 30 al decimo secondo ok dovrebbe costruire MKV perfetto quindi lui ha costruito adesso un andiamo a vedere facciamo un bel CLS ffmpeg punto x meno i di cat ci dovrebbe dire che ha costruito un file di 10 secondi perché noi siamo partiti da 0 e taglia per 10 secondi e infatti lui ha costruito una duration di 10 secondi ovviamente ovviamente scusami termino soltanto l'MKV come preset predefinito ha come codec video questo l'H264 e come codec audio il Borbis quindi attenzione perché lui comunque sia in questo momento ha fatto anche tutta una serie di operazioni quelle che vi spiegavo all'inizio del tutorial cioè quando voi scrivete un'estensione poi ffmpeg fa delle operazioni anche in automatico nel momento in cui volevate avere invece un audio in mp3 dovevate anche specificare come diceva Andrea prima con tutti gli switch che abbiamo visto prima meno c due punti a lo voglio in mp3 128k secondo me è molto chiaro io passerei al prossimo perfetto vogliamo anche far vedere ad esempio da dal secondo x al secondo y che ne dici che secondo me ah sì 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 certo perché in realtà noi potremmo fare anche questa operazione noi in realtà abbiamo detto parti da zero e vai taglia per 10 secondi cioè quindi lui al decimo secondo ha iniziato ma noi avremmo potuto anche dire guarda fai così prendi il file questo parti al secondo zero e vai fino al secondo anzi possiamo fare diverso vai dal secondo 10 e vai fino al secondo 15 quindi potremmo fare una cosa di questo tipo quindi lui che cosa fa prende in pasto le mkv inizia il video di output dal decimo secondo quindi al decimo secondo lui inizia a fare il nuovo file di output e va fino al quindicesimo secondo quindi mentre qua abbiamo espresso un tempo della timeline del nostro video qua abbiamo espresso una duration cioè una durata quindi attenzione la differenza è nel comando quella o fa la differenza esattamente una o può cambiare la vita sostanzialmente ovviamente adesso non rilanciamo non rilanciamo magari la codifica perché tanto il risultato non cambia però il senso è questo attenzione perché ffmpeg ha una una chicca se voi volete evitare che in questo tipo di operazione inizi dal dal secondo zero e faccia i primi dieci secondi comunque di elaborazione perché lui cosa fa ffmpeg in questo caso sta scansionando il file quindi parte da zero secondi uno due tre arriva al decimo e dice ok come se schiacciasse il tasto registra registra fino al quindicesimo secondo ok ho registrato quei cinque secondi ti creo l'mkv chiaro se invece volete evitare che lui inizi a scansionare dal secondo zero e arrivi fino al decimo per poi schiacciare il tasto rec si può semplicemente anteporre lo switch di seek questo qua almeno ss si chiama switch di seek cioè di ricerca seek in inglese quindi gli si dice prima vai direttamente al al 10 senza pietà perché senza pietà perché tanto a me i primi 10 secondi che tu li legga non ci interessa vai direttamente quindi semplicemente spostando questo pezzo qua di codice di sintassi davanti al meno i ci evita che ffmpeg codifichi o comunque vada ad analizzare i primi 10 un'ora quel che l'è secondi del video che gli stiamo dando in pasto questa è una cosa interessante che potrebbe velocizzare ulteriormente la vostra codifica eh sì immaginate magari di dover saltare decine di minuti vi state risparmiando un sacco di tempo esatto io andrei avanti Andrea con il punto 6 del nostro bellissimo file world dove andiamo a sostituire l'audio ad un video questo è super io lo uso regolarmente in ogni singolo video che io creo io elaboro l'audio del video creo il video prendo poi l'audio lo estrapolo lo elaboro ultimamente lo elaboro con ffmpeg stesso prima lo elaboravo con reaper o con audacity e poi rimetto l'audio elaborato all'interno del video ovviamente devo avere l'accortezza di non fare tagli nell'audio perché se no non sarà sincronizzato più col video quindi vado solo a regolare i volumi sì quello è un modo molto evoluto di utilizzare ffmpeg tu vabbè sei cintura nera terzo dan di ffmpeg quindi sono un tuo umile allievo assolutamente no allora in questo caso noi vogliamo sostituire l'audio ad un video quindi che cosa dobbiamo fare la prima cosa è dire allora prendiamo il nostro file di input che in questo caso di esempio è un mp4 e gli diciamo guarda fai così il codec scusate qua è sbagliato facciamo che ccc2.b ok perfetto allora file di input mp4 sì ok cosa devo fare la parte video copiala ma la parte audio sbiancala completamente cioè fallo diventare un film muto ok va bene meno an era quel famoso codec che vi dicevo un po' di tempo fa an vn sn an sta per annulla l'audio vn sta per annulla il video sn sta per annulla i sottotitoli quindi sono switch che in qualche modo bisogna imparare a memoria o comunque leggere nella documentazione ecco noi quindi abbiamo sbiancato l'audio del video a questo punto gli diciamo perfetto allora prendi l'input scusate che in questo caso vabbè è l'output questo qua gli diciamo prendi l'output mp4 che abbiamo al quale abbiamo sbiancato l'audio e combinalo con l'audio punto wav perché abbiamo un file audio a wav che vogliamo aggiungere all mp4 perché magari l'mp4 che andrea ha registrato ha un audio corrotto mentre io sono riuscito a registrarlo in wav e quindi vuole sostituirlo a questo tutorial ho fatto un esempio calzante che ne dici sì possibile perché no perfetto allora gli diamo i due file in input gli diciamo ovviamente fermati però appena il primo termina di essere codificato perché sennò andrà avanti all'infinito gli diciamo per la parte video quindi il codec video copialo perché tanto il video è già a posto così mentre per la parte audio anziché metterlo in wav perché che consuma spazio su disco e diventa un file enorme trasformamelo in ac con un bitrate da 256k e lo chiamiamo lui capisce già da solo che io voglio il video di uno e l'audio dell'altro o li devo mettere in un certo ordine per fargli capire da dove deve prendere il video e da dove l'audio o lo capisce dal formato del file esatto perfetto lo capisce dal formato del file perché ffmpeg ha dei filtri specifici sulle estensioni dei file quindi nel caso invece avreste avuto più file video allora a quel punto magari dovevamo mappare meglio in questo mappare meglio in questa riga di comando sostanzialmente l'output che avremmo voluto alla fine ottimo attenzione meno shortest come vi dicevo prima termina la codifica quando termina lo stream di input più corto a questo punto noi abbiamo rimosso l'audio da questo video e li abbiamo fusi insieme con con questo comando siccome non si sente Andrea dimmi tu vogliamo farlo comunque l'elaborazione oppure possiamo procedere avanti secondo me una volta che l'abbiamo spiegata a questo punto sapete che il risultato che vedete è lo stesso che avete sempre visto per cui infilate dentro il comando vi ritrovate una spappardella di informazioni e alla fine avrete il vostro audio bello pronto in questo caso specifichiamo tu l'hai già detto ma lo ripeto che si devono lanciare due comandi il primo per rimuovere l'audio e il secondo per unire il doppio il doppio streaming esatto passo 1 e passo 2 quindi queste sono le due operazioni da fare anche per semplificare si sarebbe potuto fare un'operazione di mapping molto avanzata che magari si potrebbe vedere chi lo sa in un prossimo tutorial Andrea che ne dici perché no perché no ok e quindi concatenare tutte queste cose in un'unica riga di comando ma siccome stiamo facendo un tutorial semplice e anche per noi è più facile per capire quello che stiamo facendo senza combinare dei disastri allora facciamolo in due step tanto ci costa poco digitare dei tassi delle lettere sulla riga di comando io andrei avanti con un comando che secondo me è molto interessante soprattutto per podcaster youtuber e tutti coloro che vogliono pubblicare ad esempio su spotify eh sì eh sì qui secondo me anche qua andiamo a a fare citare diverse persone allora dobbiamo parlare di lufs che sono stati citati alcune volte durante il festival del podcasting 2018 e 2019 Andrea ti ricordi e mi ricordo molto bene salutiamo anche Filippo Carrozzo che è un amante dei lufs esatto e lufs sostanzialmente è un un indicatore per dire quanto suona forte il vostro file audio ok cosa è successo in passato purtroppo non tutti si erano messi d'accordo su quale scala di volume utilizzare allora c'è stata per anni la guerra dei lufs questa guerra dei lufs è terminata e si è detto perfetto signori allora da oggi scriviamo un libro con una tabella e in questa tabella diciamo che su per i programmi broadcast di tv si fa i file l'audio deve essere a questo volume ok i lufs devono essere a questo volume perfetto per youtube deve essere fatto a questo volume per spotify a questo volume per alexa a questo volume come si fa questa cosa questa cosa si fa attraverso anche gli comandi di ffmpeg io questo comando non me lo sono inventato l'ho semplicemente preso da la documentazione ufficiale di amazon che utilizza amazon ffmpeg quindi fantastico fantastico e vi dice sostanzialmente quali lufs voi potete avere per pubblicare una flash una skill flash su alexa per chi utilizza alexa ha pubblicato sa che le skill flash sono quelle quei file audio quelle con gli spot audio che passano velocemente quando viene chiesto ad alexa alexa fammi ascoltare le news di oggi e potreste finire anche voi dipende dalla skill che avete ad esempio se avete un podcast veloce di pochi minuti però dovete per essere ascoltati ascoltabili e alexa farvi ascoltare sulla sua piattaforma dovete avere dei prerequisiti e questi prerequisiti sono i lufs ad un certo punto ad un certo livello e per impostare i lufs corretti dovete usare espressamente questa riga di comando che in questo momento vi stiamo facendo vedere come funziona la riga di comando è sempre la solita dove abbiamo un file di input ecco specifichiamo soltanto una cosa a momento Piero Angela di quelli che io adoro altre due cosine sui lufs e per farvi capire quanto sono importanti allora come ha detto Maurizio i lufs sono fondamentalmente un numerino che vi dice quanto suona forte il vostro file audio o il vostro video quindi quanto è il volume in realtà la sto molto semplificando perché non è che vi dici il volume perché sennò basta guardare il volume il lufs fa una specie di media ancora semplificando di quello che è il volume di tutta la vostra traccia audio vi invito ad andare a cercare il canale youtube Riperiani di Francesco Bonalume che ha un gran bel video proprio in cui parla di lufs e dei lufs richiesti da ogni piattaforma perché è importante sta roba qua perché ogni piattaforma vedete che nel documento abbiamo scritto Alexa youtube spotify vi richiede che i video siano caricati a un certo valore di lufs sulla loro piattaforma i lufs l'ultima cosa che vi dico è che si valutano cioè si conteggiano negativamente per cui un lufs di zero vuol dire un volume pazzesco un lufs di esatto siamo a un volume esagerato un lufs di meno 10 vuol dire un volume molto alto non a caso i volumi suggeriti da youtube spotify e compagnia bella si aggirano solitamente tra il meno 16 e il meno 14 più o meno quelli sono i valori che voi troverete in giro esatto momento piero angela terminato ma hai fatto benissimo perché spiegare l'argomento dei lufs è molto complicato anche perché bisogna avere delle basi di audio ed effettivamente francesco sul suo canale riperiani lo spiega benissimo peraltro mi pare ce ne siano due di video sui lufs al massimo se poi li vogliamo linkare non ci sono problemi comunque il canale riperiani io dico sempre di sì poi me ne dimentico sempre però adesso me lo segno l'indicazione comunque andate sul canale riperiani di francesco bonalume e cercate la parola lufs vi compariranno due video non lunghissimi poi lui è molto bravo a spiegare quindi capirete di che cosa stiamo parlando il meno 14 famoso di cui parlava poco fa Andrea è proprio questo qua dove che vi sto evidenziando sulla riga di comando quindi stiamo usando in input il vostro file ad esempio del podcast e gli stiamo dicendo usa un audio filter meno f che si chiama loud norm e questo loud norm ha tutta una serie di parametri ok questi parametri sono tra cui il valore massimo di volume che dovrebbe raggiungere il vostro podcast meno 14 poi ovviamente col vostro pomellone dello stereo andrete ad amplificare fin quanto volete però di default lui suonerà comunque sia intorno a quel valore medio di meno 14 ok perché quello o un medio o un integrato comunque intorno a quella cifra là avrà un true peak di meno 3 quindi raggiungerà anche un valore di meno 3 che quindi è molto alto ma sono solo picchi cioè vuol dire che il vostro file audio non potrà suonare sempre al massimo perché distorcerebbe ma sta intorno a meno 14 ogni tanto quando fa picchi può arrivare al massimo a meno 3 perché 0 è considerato il punto di clipping cioè sto fischiando sto distorcendo sto facendo ascoltare malissimo il mio podcast ecco perché Amazon su Alexa sta imponendo questo tipo di volume la stessa cosa lo sta facendo ad esempio adesso andiamo a prendere puoi far vedere anzi no lo faccio vedere io guarda facciamo così facciamo prima così Google Home anche lui ha c'è un link alla reference ufficiale quindi vi metteremo anche il link per andare a leggere tutta la documentazione ufficiale che loro stessi hanno pubblicato e dicono quali sono i valori che dovete utilizzare ad esempio Google Home dice usa un first pass cioè fai un'analisi del tuo podcast e lui stamperà video tutta una serie di valori ad esempio io ho preso fatto copia e colla proprio pedestre della loro documentazione e lui stamperà dei valori l'integrato il true peak e la threshold perfetto adesso una volta che tu hai fatto la scansione del tuo file audio utilizza questi valori per applicare i loops che ti dico io perfetto allora devo usare la riga di comando che è molto simile a quella di prima ma non è proprio uguale perché ad esempio lui dice stai intorno a meno 16 però attenzione perché per questo file audio io ho misurato che l'integrato è meno 27,2 quindi i valori questi qua giallo verde azzurro dovrete andarli a sostituire ogni volta che farete la compressione per google home ok questo per stare all'interno dei suoi valori di loops adesso non ricordo per spotify se l'avevo messo no ma mi sembra che sia per google home che per spotify sia sempre meno 16 mi puoi confermare andrea adesso non ricordo guarda lo cerco tu vai pure avanti io lo cerco ma dovrebbe essere meno 16 anche spotify comunque sono valori molto vicini ah no guarda forse ce l'ho qua attenzione che potrei stupirti con effetti dentifrici attenzione perché sono stato bravo ho studiato bene forse ok si youtube ad esempio usa un meno 14 mentre spotify utilizza per lo streaming meno 14 mentre per si è interessante spotify spotify loud vabbè meno 11 piuttosto che meno 14 bisogna andare a vedere quindi se siete dei pubblicatori anche su spotify e volete andare ad indagare potrete dovreste utilizzare due valori differenti attenzione credo che il valore corretto per il podcasting sia comunque meno 14 secondo me non è tanto riferito ai podcast spotify loud esatto penso che comunque un valore stare intorno a meno 14 meno 16 sia abbastanza medio ad esempio apple podcast meno 16 più meno 1 di tolleranza vedi quindi è un pochino più morigerato un po' più basso di volume sì però ti dà una tolleranza di più o meno 1 quindi è un pochettino è un pochettino più tollerante da quel su questo su questo valore questo link lo trovate nel documento che vi abbiamo lasciato che vi abbiamo lasciato a disposizione se ho capito bene giusto? sì sì è nel documento è sopra perfetto regola il ufs c'è la tabella valori quindi se siete interessati a questa bellissima tabella siete nerd dell'audio e volete essere pubblicati assolutamente al 101% su queste piattaforme dovete seguire queste indicazioni allora proseguiamo con il prossimo comando che ne dici? assolutamente sì attenzione abbiamo parlato ad esempio di vi ho fatto uno spoiler prima di scaling cioè ridimensionare il video che ne dici? sì ok possiamo far vedere questo bellissimo comando quindi video senza audio è uno scale a 640 che cosa significa questo comando? significa che tutti i file video che io sto dando in input avranno l'audio azzerato questo per far vedere più switch ovviamente potreste anche non metterlo in questo caso l'audio azzerato io però per far vedervi potete fare il copy per esempio esattamente quindi potrebbe essere una codec copy che ne dite? audio codec copy e vedete che sto usando due sintassi diverse a codec mentre qua vado a scrivere meno c due punti è indifferente per ffmpeg va tutto bene perché state scrivendo all'interno delle sue regole però a questo file video gli sto dicendo codificati in x264 quindi h264 con un crfactor di 26 quindi un non buonissimo però va bene lo voglio compresso e poi gli vado a dire usa un video filter escalamelo a 6 e 40 quindi il lato lungo del rettangolo sarà 640 pixel e il lato corto sarà in automatico meno uno sta per automatico quindi se voi avete un formato video che non è 640 per 480 standard quindi un 4 terzi standard ma avete un 640 per scusate facciamo un altro esempio 1920 per 1080 dobbiamo scendere a 640 quindi avete il classico 16 noni perfetto però magari non è 1920 per 1080 ma è 1920 per 1022 andare a farsi il calcolino 1022 scalato fino a 640 perché non lo faccio fare ad ffmpeg perché tanto lo può fare in automatico perfetto con il valore meno uno lui calcola il valore automaticamente ovviamente se poi siamo dei precisini vogliamo essere proprio precisi al millimetro al pixel andiamo a calcolarci il valore oppure andiamo anche a forzare un valore perché ci può stare che vogliamo delle bande nere sopra il nostro video per un motivo specifico nostro un'esigenza particolare e quindi anziché mettere il meno uno andiamo a mettergli il se è standard 4 terzi dovrebbe essere un 480 pixel altrimenti potremmo mettere 400 pixel quindi viene leggermente più più stretto ma in questo caso mi fa il cosiddetto crop quindi mi taglia il video oppure me lo schiaccia me lo fa vedere deformato questo è lo scaling vuol dire no no però intendo se io gli cambio gli cambio le proporzioni fai finta che io prendo un video in 4 terzi e qui nell'output gli metto invece un 16 noni lui che cosa farà con la parte che io gli ho tolto mi schiaccerà il video oppure mi taglierà la parte mancante ne hai idea? allora il preset automatico non lo conosco io presumo che lui aggiunga le bande nere perché penso che comunque sia il ffmpeg da quel punto di vista sia conservativo e non vada a modificare l'aspetto razio la razio dell'immagine però sicuramente bisogna fare una prova esattamente però potrebbe essere una prova che qualcuno vedendo questo tutorial farà e ci scriverà nei commenti e poi lo aggiungiamo nel documento esatto fammi specificare una cosa che vi fa capire anche quanto io sia cretino ovviamente essendo una persona seria Maurizio vi dice diminuire la risoluzione di un video in realtà voi con questo comando la potete anche aumentare la risoluzione di un video è chiaro che se voi prendete un video in HD e lo aumentate a full HD l'aumento sarà soltanto un aumento fittizio cioè risulterà nel file dal punto di vista dei pixel ma ci saranno dei pixel duplicati per cui di fatto la reale risoluzione di quel video sarà quella originaria perché non è che potete aumentare la risoluzione ma io questa roba qua la faccio perché io registro con OBS Studio in HD per motivi semplicemente di computer non riesco a registrare oltre l'HD però mi sono fissato non è che abbia delle dimostrazioni su sta roba qua ma mi sono fissato che YouTube è più contento se gli carico i video in full HD e allora che cosa faccio? io prendo i miei video che sono in HD e li carico in full HD sperando che YouTube non se ne accorga non lo so se questa roba qua è vera se accade però sappiate che io alzo la risoluzione in maniera artificiosa dei miei video risultato per chi guarda non cambia nulla spero che YouTube dica ah guarda questo che bravo che li fa in full HD e si lasci fregare da un pivello come me che ci prova un po' così con semplicità con FFmpeg ma potrebbe anche essere sinceramente beh considera che comunque in HD sono un 720p quindi sono 1000 qualcosa per 720 e tu passeresti a un 1920 per 1080 quindi sono 300 pixel che vai a strecciare allungare e magari non si nota così tanto da quel punto di vista invece si noterebbe di più se tu vai a modificare il valore degli FPS cioè dei frame quindi se tu stai passando da un 30 frame da un 60 frame magari e lo diminuisci tantissimo allora vedi che le immagini sono meno fluide sai è mai presente quando guardi video su YouTube che sono a 60 frame che sono sembrano quasi naturali per certi versi perché noi siamo abituati al classico formato video da 25 fps della televisione che hanno tutta quella gommosità quindi quando si vede in 60 frame sembra molto più veloce poi in realtà se uno ascolta l'audio dice no ma vabbè questa persona sta parlando una velocità normale e quindi certo potresti avere diciamo così nella modifica degli FPS sicuramente tanto strecciare da un formato HD a full HD a meno che non si abbia veramente un video un monitor intendo dire di altissima qualità che ti fa vedere i pixel in modo talmente definito secondo me la differenza non si vede così tanto poi ovviamente non stiamo neanche producendo magari un contenuto che andrà a finire in 4k nei cinema e quindi un prodotto di ultra qualità da non lo so fammi dire da cineasta certo un'altra cosa però interessante che potremmo fare è quello di diminuire il bitrate di un video il che significa che ad esempio io adesso non so quale impostazioni tu utilizzi Andrea per registrare la parte video con OBS di questi tutorial però mi immagino che avrai un bitrate di almeno 2000 2500 quindi 2 mega 2 mega e mezzo sì qualcosina in più secondo me attualmente sono tipo sui 4000 qualcosa di simile ok c'è bitrate che per gli anni 2000 erano impensabili perché la potenza dei computer dell'epoca non gli sarebbe stata dietro nella riproduzione fluida di quel tipo di video allora che cosa si potrebbe fare si potrebbe per una registrazione magari fatta a giorni d'oggi è passata su un old pc io sono un amante degli old pc che mi diverto a recuperare installandoci dei sistemi linux molto leggeri però vorrei magari vederci anche dei video che mi possono essere utili allora devo cercare di o comprimerli dal punto di vista dell'immagine quindi uso lo scale perché tanto sull'old pc non ho un video a full hd ma avrò magari un 1024x768 in più devo diminuire anche il bitrate quindi posso non solo lavorare sullo scale quindi l'immagine dimensione dell'immagine ma anche diminuire direttamente solo il bitrate quindi magari è già 1024 però è a 5000 di bitrate 5 mega al secondo non va bene troppo pesante per un old pc allora magari lo passo a 500k 500k erano valori che si utilizzavano all'inizio degli anni 2000 quando si facevano i primi esperimenti di ripping sui video e vi posso dire che semplicemente dando il comando ffmpeg con l'input il file che ci interessa noi possiamo dirgli guarda che il bitrate video quindi meno b2.b lui originariamente è a 5 mega lo voglio passare a 500k quindi farlo dimagrire di 4500k al secondo ovviamente poi la parte audio non mi interessa perché tanto l'audio è già compresso ok perfetto io con questo semplice comando posso andare ad agire sul bitrate del video quindi il video dimagrirà in termini di bitrate e dimagrirà in termini di dimensioni e anche di potenza cpu che ho necessaria per rendere fruibile quel determinato file che sto guardando super anche questo molto bene allora abbiamo fatto con catena più tracce audio in una sola che ne dici questo potrebbe essere una cosa interessante per qualcuno che vuole aggiungere fa tanti spezzoni o magari aggiungere una sigla ad esempio al proprio podcast sì esatto allora io in questo in questo questa comando che vi sto facendo vedere semplicemente vi sto facendo già vedere un preludio di un filter complex i filter complex sono sostanzialmente quello switch che ci permette di andare poi a fare delle elaborazioni molto complesse Andrea ad esempio vi spiegava che lui prende l'audio da più fonti poi le comprime poi ci fa delle elaborazioni poi ci fa magari delle equalizzazioni fa tutta una serie di post produzione e poi prende tutte queste cose e dice ok le faccio diventare un file solo e che vado a pubblicarlo su youtube perfetto utilizza il filter complex il filter complex ovviamente è una cosa molto complessa dal nome stesso però la documentazione di ffmpeg comunque ci viene in aiuto attenzione che secondo me lo strumento più utile per capire il filter complex è provarli e soprattutto cercare tantissimo sui forum perché c'è veramente tantissima gente tantissime persone che sono veramente schillatissime sui filter complex e considerate che ffmpeg viene usato anche negli studi televisivi per filtrare e andare a comprimere i file audio e video e renderli poi disponibili negli streaming quindi è un prodotto veramente ultra valido e il filter complex è lo strumento che più viene utilizzato nel caso specifico quindi di andare a incatenare facciamo ad esempio che abbiamo una sigla un pezzo di introduzione che è l'uno punto mp3 poi abbiamo la sigla poi abbiamo il nostro podcast e poi abbiamo la sigla finale ok quattro pezzi voi immaginatevi di avere sempre questi quattro pezzi vi copiate vi incollate sempre la stessa cosa avete già pronto il vostro podcast esattamente questo potrebbe essere tranquillamente una riga di comando per produrre il vostro podcast allora cosa gli vado a dire andiamo a dire al nostro ffmpeg allora ffmpeg prenditi in input i quattro file e attenzione devi concatenarli attraverso questo filtro complesso allora 0 2.0 significa il primo 0 indica il primo input perché considerate che ffmpeg inizia a contare da 0 quindi è 0 1 2 e 3 ok quindi il primo 0 identifica il primo file prendi lo stream 0 un file audio mp3 avrà uno stream solo quindi verrà sempre numerato come 0 ok poi a questo aggiungi il file 1 che è questo e aggiungici lo stream 0 perché un altro mp3 che ha un singolo stream audio a questo qua aggiungici ulteriormente il secondo file che mi hai dato scusami il file numero 2 di input che in realtà è il terzo e sempre lo stream 0 idem col terzo che in realtà è il quarto e sempre lo stream 0 quindi io ho mappato con queste parentesi quadre i file in successione e gli stream di ogni singolo file a questo punto gli dico concatenali concatenali 4 file il video non mi interessa lascia perdere per me video uguale a 0 perché concat come comando accetta questo tipologia di sintassi siccome stiamo producendo un mp3 finale non ha senso mettergli video uguale a 1 perché non non avrà video mp3 un file mp3 e poi diciamo audio uguale a 1 perfetto tutta questa roba qua che abbiamo inizialmente concatenato chiamalo alla fine out perfetto a questo punto il filter complex si chiude perché si chiude la singola apice e dice mappa l'out che è il risultato di tutta questa operazione e trasformalo e nominalo in audio unito punto mp3 mi rendo conto che questo potrebbe sembrare un doppione ma non lo è perché purtroppo nel ffmpeg ha bisogno di specificare spesso e volentieri la mappatura di tutte queste concatenazioni dei filter complex quindi non vi stupite che esista un primo out un secondo out ma semplicemente ha bisogno di ribadirlo più volte perché deve essere sicuro due volte ffmpeg ve la semplifica un pochettino la cosa spero di essere stato chiaro andrea dimmi tu secondo me sì qui ti dico basta fare veramente il copia incolla e giocarci un pochino direi che non vale la pena entrare più nel dettaglio di così perché servirebbero due ore di tutorial solo per entrare nel dettaglio vi dico che in realtà facendole più semplice di quello che sembra per cui provateci e vedrete che non avrete tutte queste difficoltà esatto qualora voi abbiate soltanto due file allora a questo punto voi andate a cancellare questi ok mettiamo che abbiamo una intro e poi il nostro podcast andiamo a cancellare questi qua che non ci interessano più e questo qua lo trasformiamo in due ok questo ve lo dico perché potrebbe esservi utile fare delle modifiche ve lo dico in questo tutorial così magari provate fateci sapere nei commenti di questo tutorial e magari poi vi rispondiamo e vi diciamo no fai così fai così mi raccomando fateci sapere e provate io continuerei con il punto 10 che unisci più tracce audio in una cioè vuol dire non concatenarle ma mixarle quindi uniscile tra virgolette in parallelo esatto mixarle come ad esempio fammi dire un tappeto sonoro che voglio mettere sotto la mia voce bravissimo mi hai letto nel pensiero che è quello che facciamo noi podcaster del resto esattamente quindi in realtà si può fare attraverso questo comando in questo caso noi gli possiamo dare l'input 1 che magari è il nostro podcast e l'input 2 che magari è il il tappeto sonoro l'input 3 magari possiamo anche cancellarlo in questo caso specifico però se lo cancelliamo immaginiamo anche che io voglio mettere insieme due voci la mia voce la tua e un tappeto sonoro ah sì si può fare allora facciamo ctrl z vedi possiamo tornare indietro sì si può fare assolutamente attenzione che siano ovviamente sincronizzati nel senso che se no si andrebbero poi una volta mixate tra di loro le tracce audio rischieremmo di avere magari le mie risposte in anticipo rispetto alle domande di Andrea non sarebbe proprio bene assolutamente però è un'operazione che si potrebbe fare tranquillamente se avete i punti di rack tutti quanti sincronizzati e il terzo magari è il tappeto sonore cosa facciamo idem con patate usiamo il filter complex in questo caso usiamo amix che è un filter complex particolare che serve apposta per mixare più file audio ma io penso che magari se faremo un tutorial advanced di ffmpeg magari amix lo vedremo un po' più nello specifico perché amix è uno dei comandi che più può essere utile per coloro che fanno mixaggio audio tipo di podcast più voci tappeti sonori assolutamente senti qui non hai messo gli apici per qualche motivo allora in realtà dovrebbe funzionare anche così ma noi giustamente come dice il buon Andrea noi mettiamolo perché vogliamo essere sicuri al 101% che questa sintassi sia corretta e funzionante potrei anche aver sbagliato ma dovrebbe funzionare anche senza perché è una stringa unica esattamente perché attenzione i filter complex potrebbero essere formati anche da più comandi e quindi a quel punto essendoci magari degli spazi o cose di questo tipo o degli acapi addirittura che però non vengono accettati dalla shell di Windows ma vengono accettati dalla shell di Linux allora a quel punto il singolo apice ci aiuta nel costruire pacchettizzare cioè tenere tutto dentro lo stesso blocco tutta questa enorme stringone che potrebbe avere dei caratteri speciali quali la capo gli spazi e compagnia bella ovviamente inputs e sono il valore degli input che noi stiamo andando a mixare in questo caso è 3 avessimo cancellato sarebbe diventato un 2 duration first vuol dire che il primo che si ferma smetti di mixare dropout transition sono millisecondi di transizione tra di loro in realtà si potrebbe anche non specificare perché il dropout se non ricordo male ffmpeg ha dei valori di standard però in ogni caso potrebbe essere utile e soprattutto educativo andare a cercare e dire ma che cos'è questo dropout transition e farci sapere nei commenti guardate io anziché 3 l'ho messo a 50 funziona poi magari sto dicendo un valore sbagliato non lo so però fatecelo sapere in qualche modo ovviamente l'output sarà il nome del file output magari output.mp3 in questo caso fatto questo noi abbiamo fuso le tre fonti sonore in un unico mixato le tre fonti sonore in un unico file perfetto possiamo andare a pubblicare sul nostro servizio online quello che sarà il nostro podcast o quel che è e questo è quello che faccio quando vedete i video brevi o gli episodi brevi di fare smart ovvero registro e poi metto un bel tappeto sonoro con ffmpeg in maniera totalmente automatica molto bene io darei il regalino finale per coloro che sono podcaster che ne dici andiamo con il regalino finale vai va bene allora io vi ho fatto vedere che si può fondere un'immagine fissa statica con un file audio e creare un video statico che però può essere pubblicato tranquillamente su youtube quindi voi potete fare il vostro podcast anche su youtube però ma quanto sarebbe bello magari avere un effetto grafico con uno spettro grafico che faccia vedere delle onde delle frequenze che si muovono con ffmpeg si possono fare certe cose anche molto carine e adesso vi faccio vedere la sintassi e ve la faccio vedere in due modi così anzi guarda faccio vedere direttamente il file del word che tanto condivideremo così almeno sì anche perché qua secondo me più che altro ci sarà da fare il copia e incolla più che capire in questa sede ogni singola cosa che c'è scritta dentro esatto allora facciamo così io ve lo vi faccio vedere i vari valori che sono stati messi poi vi faccio vedere l'effetto finale perché l'effetto finale lo abbiamo così poi è più facile comprendere di che cosa stiamo parlando nelle vari sintassi in tutte le parti della sintassi come potete vedere qua stiamo dicendo ffmpeg ok meno y questo non l'abbiamo mai detto durante tutto il tutorial meno y è sovrascrivi il file di output a prescindere nel momento in cui esiste quindi non mi chiede più vuoi sovrascrivere il file lui lo fa quello è meno yes sì sovrascrivi fai quindi il file che avete codificato precedentemente lo perderete completamente gli andiamo a dire prenditi il tuo file audio.mp3 quindi sarà il nostro podcast ad esempio andiamo a riprendere quella sintassi di loop che vi avevo fatto vedere per l'immagine statica gli andiamo a dire applicaci questo tipologia di immagine quindi è la sorgente dell'immagine perché io voglio mettere anche un'immagine fissa non voglio mettere solo uno spettrogramma a quel punto apro il filter complex ok nel filter complex vado a specificare che cosa deve andare a costruire ve lo faccio vedere qua sotto che è più facile perché l'ho messo a capo in realtà questa qua è la riga tutta scusate è la sintassi tutta su una riga sola quindi potete fare copia e colla modificare i nomi dei file e avrete l'output per renderla più comprensibile per chi utilizza sistemi linux potete usare anche la sintassi con gli akapi gli akapi perché sono più facili da comprendere nel filter complex inizio con per il file 0 quindi il primo file di input prendimi l'audio ok non sto specificando quale stream vi dico questa cosa ffmpeg ha la selezione automatica degli stream quindi se voi non gli dite quale stream audio lui prende a prescindere il primo nel caso in cui avessi avuto un file con più audio avrei dovuto scrivere magari 0 a due punti il primo stream oppure il secondo stream audio quindi del primo file audio prendi l'audio del secondo stream potrebbe capitarvi una sintassi di quel tipo non vi spaventate io mi sono spaventato qualche settimana fa perché l'ho vista per la prima volta e non avevo capito ma studiando ho imparato che c'è questo tipo di selezione molto molto peculiare a questo punto a quel file audio applicagli un filtro di show waves cioè fammi vedere le le onde le onde graficami le onde delle frequenze a che dimensione a questo tipo di dimensione quindi un 1280% quindi è sostanzialmente un rettangolone lungo ma molto stretto dopo lo vedrete e il colore di queste onde fammele yellow gialle la modalità line quindi costruiscimi queste waves queste onde con delle linee ci sono altre modalità lo potete scoprire all'interno della documentazione il formato video di questo spettrogramma che mi stai creando costruiscimelo con il uv4020p prendetelo così com'è e mappamelo sull'output tra parentesi quadra v a questo punto prendi del file 1 quindi non stiamo non stiamo più parlando dell'audio ma dell'immagine perché vi ricordate che questo è lo 0 e questo è l'1 prendimi il video quindi l'immagine e uniscilo al quello di prima quindi all'immagine sovrapponilo sovrapponi il le waves che hai costruito poco fa ok come nell'overlay sostanzialmente con 0 2.350 0.350 vuol dire partendo da in alto a destra scusate da 0 a destra quindi da destra verso sinistra a 300 pixel quindi rimane sulla linea di destra che per me è destra questa ma per voi magari è questa la destra e poi spostati dall'alto 350 pixel ok quindi questa è sostanzialmente una coordinata cartesiana all'interno del quadrato dell'immagine che viene creata perché l'immagine è dell'immagine jpg perché l'immagine jpg se voi la fate a 1920x1080 vi verrà un video a 1080 ok in full hd poi l'audio sarà con la codifica che avete deciso ma quella è la dimensione 0x350 vuol dire parti da in alto a 0 quindi stai tutto a destra e scendi di 350 e mappa tutto questo overlay tutto questo concatenamento di fonti video in un qualcosa che si chiama out video perfetto a questo punto sono uscito dal filter vi ricordate che ffmpeg ha la necessità di rimappare di specificare più volte questa cosa qua perfetto lo rimappa lo rimappa e gli dici mi raccomando fammelo in questo formato copiate incollate a questo punto però lui rimappa anche l'audio e gli dice prendi a questo punto l'audio perché l'audio di prima l'hai utilizzato per costruire le waves dello spettrogramma ma adesso devi costruirmi anche il file video con l'audio quindi riprenditi quella parte audio e insieme costruisci un file video con codec x264 scusate e l'audio copialo mi raccomando non riconvertirlo non mi interessa attenzione potrete mettere meno c a due punti a o meno c due punti v come volete non è importante l'importante è che sia dopo la mappatura perché se no lui non capisce più quali tipo di fonti audio devo utilizzare però l'inversione dei codec non è un problema per ffmpeg è abbastanza come dire libero tranquillo nell'interpretare la vostra sintassi meno shortest l'abbiamo visto precedentemente il primo che termina vuol dire che tu ti devi fermare a codificare a questo punto costruisci il file che si chiama spettro4.mkv di tutto questo ambaradan a mio modo di parere a mio modo di vedere l'uniche cose che voi dovreste modificare sono il file il nome del file audio e il nome del file jpeg e adesso però vi faccio vedere se vi piace l'output perché l'output ce l'abbiamo ce l'abbiamo dovremmo vercelo attenzione perché eccolo qua così chiudiamo in bellezza eccolo qua è fighissimo fighissimo io in questo momento sento l'audio ma lo abbasso e semplicemente ho detto questo qua è un rettangolone che è costruito con le waves del file audio partendo da zero in alto a destra è sceso di 350 pixel e ha posizionato esattamente tra le scritte il podcast tuttofare e argomento qualsiasi lo spettrogramma che abbiamo appena creato avessi fatto un 300 pixel sarebbe stato più in alto cioè verso la scritta factotum questa è l'indicazione spaziale sugli assi cartesiani che vi ho fatto vedere nel filter complex mamma mia mamma mia caro Maurizio che tutorialone questa qua veramente è una bomba di quelle che piacciono a noi io ti ringrazio davvero un sacco e sono sicuro che avete trovato un sacco di valore in quello che vi ha raccontato adesso avete gli strumenti davvero il coltellino svizzero per fare un sacco di cose al vostro video al vostro audio sistemarlo e risparmiare letteralmente un sacco di tempo a volte la gente mi dice ma come fai a produrre così tanti contenuti durante la settimana così lunghi con questa frequenza beh la risposta è semplice utilizzo dei metodi tra cui ffmpeg che mi permettono di ottimizzare al 100% le mie tempistiche e questo è proprio il concetto che oggi vi abbiamo passato sì ffmpeg veramente velocizza tantissimo il vostro workflow io mi sento di consigliarvelo non vi spaventate per la riga di comando insomma io e Andrea siamo comunque a disposizione per aiutarvi scriveteci assolutamente sì ci trovate entrambi su telegram nel caso di Maurizio vi ricordo di andare a trovarlo su Factotum podcast su tutte le piattaforme di ascolto di podcast vi ricordo di andare a trovarlo su maurizionlonobile.it per andare a vedere il sito e tutte le cose che fa Maurizio lo trovate comunque su telegram chiocciolina cosa Maurizio ma allora io ho il canale Factotum podcast e poi ho il gruppo correlato quindi se mi volete iscrivere anche in Factotum podcast gruppo nessun problema mi cercate facilissimo Factotum podcast ce n'è uno solo quindi lo troviamo anche da quelle parti vi ricordo di venirmi a trovare su telegram chiocciolina ciraulo per trovare quello che faccio invece io e che dirti caro Maurizio se non un super grazie per questa gran bella cosa che abbiamo fatto insieme grazie a te Andrea per l'opportunità e di soprattutto della collaborazione che secondo me è proficua e spero di continuare magari con un prossimo tutorial un po' più avanzato per coloro che si sono appassionati ad FFMPEG davvero fateci sapere mi raccomando ancora grazie un abbraccione a presto a presto ciao anche a voi a presto